Dopo la tormentata settimana a Biancorossa con Crusers con due pareggi per 1-1, i Biancorossi rinunciano al tecnico Mastro Nicola e lanciano in panchina Adrian Ricchiuti. Per l'argentino sarà un esordio fortunato al debutto tra l'altro al Neri. Primi aggiustamenti tattici, Masetti, il reddivivo lanciato dal primo minuto insieme a Scattarlotti, oltre che la colfema tra i pali del portiere Adorni. La gara ha un inizio targato rosso-blu, la punizione di Menarini termina alta. Da un'altra punizione ospite, battuta sempre da Menarini, questa volta il pallone giunge a Cimangi, cui colpo di testa ha minalzato in corner da Adorni. Il difensore sarà protagonista in negativa al tredicesimo, quando sul traversone di Masetti stende così in area di rigore a Lotti. Dal dischetto Wutai si lascia ipnotizzare i penalty da Celeste. Da una punizione di Ronchi nasce un disimpegno a vuoto di Cimangi, con Wutai che è bravo a lanciarsi su pallone ma non riesce ad inquadrare in questo caso il bersaglio. Rimini che tenta di sbrocare la gara con la punizione di Masetti, ma la sfera è alta. Termina qui la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Nella ripresa Ceccarelli mette al centro per Wutai, bravo, nell'anticipo ma il pallone si accomoda sul fondo. Si rivede finalmente il progresso. Gulinatti appoggia per Esposito, il cui tiro è respinto da Adorni. Dopo la mezz'ora, Ambrosini serve al centro per il neoentrato Viti, che di testa alza la mira. Su fine di gara Gomis lancia per Ambrosini, qui tocca a sbarcare Casolla e favorevole al neoentrato che viene però smorzato in corner della difesa avversaria. Il monologo prosegue con Ambrosini che costringe a Celeste a rifugiarsi in corner. A quarantesimo dalla bandierina, Ambrosini pennella questo traversone dove, sotto porta, si crea una mischia. Risolta da Wutai, sarà questo il gol partita con il nono centro di stagione a cura del bomber bianco-rosso. Nel recupero sfiori da doppio anche Casolla. Il Rimini trova i primi tre punti sotto la gestione di Chiuti, muovendo la classifica e trovando quella tranquillità necessaria per il proseguo di stagione.